Luigi Di Maio, il Chierichetto, Fico il Moscio ovviamente e l'emergente di Battista detto Dibba, il Gallo Cedrone, diciamo ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti, Fico, Campania, vi ricordate? Luigino, Appomigliaro, 56 voti credo, Edi Battista, dice che se no l'ho letto su un giornale, si era candidato pure a una una municipalità di Roma, bocciato pure lui. Allora la cosa davvero drammatica è immaginare che questi soggetti possano avere in mano l'Italia, l'Italia. Questi tre si odiano, si baciano, si abbracciano, sono falsi come Giuda. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro, falsi come Giuda, però in pubblico, baci a baci, che vi possano ammazzare tutti quanti.